Mi sta succedendo qualcosa. Nella mia mente si risveglia qualcosa che non controllo. Che cosa hai visto? Paul! Una crociata imminente. Sogni spesso cose che accadono, come le hai sognate? Sì. La prova è semplice. Ritira la mano dalla scatola. E sei morto. Cosa c'è nella scatola? Dolore. Erediti troppo potere. Hai provato di saper governare te stesso. Ora impara a governare gli altri. Nessuno dei tuoi antenati l'ha mai imparato. Mio padre governa un intero pianeta. Lo sta perdendo. Per uno ancora più ricco. Perderà anche quello. Ah, il mio ragazzo! Arrakis è una trappola. Uzzideteli. Questo è uno sterminio. Stanno eliminando la mia famiglia uno a uno. Combattiamo come demoni. Un animale in trappola. Si staccherebbe la zampa a morsi per scappare. Tu che farai? Ti conosco. Un giorno nascerà la leggenda. Da essa dipenderà tutta la civiltà. il futuro lo vedo. Non devo avere paura. La paura uccide la mente. Mio signore Ducan. Andata via la paura rimarrò solo io. Via, via, via! All that you touch is all that you see non deve essere ma Quaglia io che che m pi che iva